Siamo una piccola cooperativa che dal 2011 si occupa di migrazione, gestendo CAS, quindi centri di accoglienza straordinaria. Abbiamo circa 20 ragazzi e attualmente in progetti di Co-Housing First abbiamo 15 ragazzi. È un'esperienza che è iniziata circa tre anni fa, dove accoglievamo in un appartamento che la cooperativa ha affittato, quindi ha avuto un contatto con il proprietario, da garante con il proprietario. È iniziato per l'appunto con i ragazzi che erano accolti presso il nostro CAS, venivano inseriti in questo appartamento dove andavano a pagare l'affitto ma in modo crescente, quindi i primi mesi tot fino arrivare al sesto mese circa alla quota loro d'affitto. Dopodiché, insomma, negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, ci siamo interrogati se ampliare tale progetto e quindi abbiamo individuato un altro appartamento che è partito da poco, da settembre, anche lì abbiamo inserito altri cinque ragazzi, però in modo differente, ossia loro pagano direttamente già la loro quota d'affitto. E poi, insomma, stamattina li ho accompagnati altri due ragazzi in alcune camere che abbiamo trovato in Rimini Sud. Piano piano, insomma, ci siamo anche strutturati, tant'è che oltre alla relazione col proprietario, alla cauzione che gli diamo, insomma, e le rassicurazioni che ogni mese dobbiamo fargli, ci siamo strutturati in modo tale da fare una selezione dei ragazzi, in quanto ci siamo perti al territorio, avendo dei posti liberi. E quindi raccogliamo le domande, facciamo un minimo di colloquio di selezione, chiediamo un minimo di referenze, ossia, l'obiettivo anche è quello di fare rete, quindi o con i datori di lavoro o con amici del richiedente, sono ragazzi che hanno già il permesso, insomma, la maggior parte. Oppure con, insomma, con la cooperativa da cui arrivava. E quindi si cerca di costruire una rete intorno al ragazzo, che non è che viene preso e abbandonato nell'appartamento. Quindi dopo questa fase di selezione si inserisce nell'appartamento e viene effettuata una visita domiciliare a settimana, anche se poi sono di più perché, insomma, i classici problemi hanno un funzionamento alla caldaia, ho bisogno del domicilio, quindi minimo due volte a settimana si vanno a trovare i ragazzi. E poi abbiamo strutturato delle lezioni di italiano con un gruppo di famiglie, insomma, che in parte ci sostiene e quindi una o due volte a settimana vanno negli appartamenti a fare lezioni di italiano. Non sono degli insegnanti. A noi quello è un po' la scusa per creare delle relazioni positive, costruttive con altri cittadini italiani. E tant'è che sono queste relazioni che poi portano magari il ragazzo a trovare anche un'altra casa, per avvicinarsi al posto di lavoro, per avvicinarsi agli amici e adesso tra un paio di mesi un ragazzo che si chiama Dabo, che lavora, diciamo, a Rimini Sud a San Giovanni in Marignano, si trasferirà in un appartamento tutto suo, grazie all'aiuto di questo gruppo di famiglie. L'altra cosa importante, si parlava molto, insomma, di proprietari, eccetera, alla fine stringendo quello che gli interessa è avere soldi e che non facciano troppo casino. Battiamo sempre lì, è sui soldi. Una volta che loro, insomma, sanno che è la cooperativa che gli dà i soldi, ah, va bene. Quindi il ruolo, insomma, importante della cooperativa è di garante, insomma, del pagamento dell'affitto e di, insomma, gestione in parte dell'appartamento. Insomma, questo interessa principalmente. e se vedono, insomma, una faccia bianca che magari li presenta anche ai ragazzi, eccetera, si rassicurano un pochettino di più. L'obiettivo grosso che avverrà in quest'anno è passare il contratto di locazione dal intestato alla cooperativa ai ragazzi stessi. Perché in un appartamento si è formato un gruppo di ragazzi bravi che lavorano, eccetera, che sono intenzionati anche a prendersi in locazione l'appartamento. Quindi anche lì è un processo lungo. Quest'anno lavoreremo per spiegargli come funzionano le bollette, il conguaglio dell'acqua, la luce, il pagamento. Ed è, insomma, il top arrivare a, insomma, a intestare direttamente il contratto ai ragazzi in modo tale che non ci sia più la cooperativa a fare da mamma, tra virgolette, ma siano i ragazzi stessi proprio che si integrano, almeno per quanto riguarda l'abitazione, nel contesto. Poi nella gestione, insomma, concreta ci sono le solite cose, il rapporto col vicinato, quindi vai a parlare con la vecchietta davanti, tutto bene? No, no, sono bravi ragazzi. Quindi l'intenzione è quella di ampliare l'esperienza e individuare altri appartamenti perché bisogno ce n'è diverso e ragazzi con una base economica, quindi con un lavoro che hanno, insomma, una conoscenza buona della lingua italiana, che hanno voglia proprio di integrarsi, ce ne sono diversi. Il problema è provare ad ampliare questa offerta perché il problema, insomma, del tema è che spesso si parla, insomma, in modo binario, sia ah, sono bravi ragazzi, ah no, sono... in realtà, insomma, sappiamo che ci sono diverse sfumature e la nostra esperienza, insomma, tre anni fa, all'inizio dell'accoglienza, c'erano ragazzi che non avevano proprio voglia di integrarsi, cioè, per motivi loro, per... e abbiamo dovuto allontanarli dal progetto. E secondo me è educativo anche questo, insomma, è stato educativo sia per noi che per i ragazzi stessi, perché non è che, insomma, sono tutti poverini, eccetera, sono ragazzi anche che, insomma, fanno fatica o non hanno proprio nessun interesse di integrarsi. e questo lo vedi soltanto dandogli alcune possibilità. E questa può essere una delle tante. Bene, grazie a Marco e a Diletta. Jacopo e Cristina, ci conducete in quest'ultima parte del lavoro pomeridiano? Io mi taccio e vi lascio la palla. Sono le tre. Vi chiederei, se avete voglia, di... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.